Presidente Siligato ormai ci siamo, domenica pomeriggio ore 16.30 allo stadio regionale ci sarà la finalissima dei play-off di seconda categoria Gironetra, Calcio, Giarra e Pedara. Cosa rappresenta per voi questa partita? Per noi questa partita rappresenta il traguardo di una missione, una missione che ormai da due anni è diventata il nostro unico scopo di squadra, di società ed è quello di fare vedere che l'impegno e la passione vengono prima degli interessi. Naturalmente c'è tanta attesa, c'è tanta voglia di centrare questo obiettivo e poi solo centrando questo obiettivo si riuscirà a parlare di futuro, si riuscirà a parlare di quello che vorremmo fare da grandi. Presidente, domenica che incontro sarà quello col Pedara? Cosa vi aspettate? Domenica ci aspettiamo una partita tra due squadre che hanno avuto la capabilità di raggiungere questo traguardo, due squadre che hanno disputato un bellissimo campionato, due squadre che hanno espresso un buon calcio, due squadre che hanno avuto una continuità pazzesca. Domenica sarà sicuramente una bellissima gara dove ci saranno tantissime emozioni, dove le due squadre vogliono la posta in palio e dove entrambe le società ci siamo prefissate un grande obiettivo comune, quello di regalare una giornata di sport con la S maiuscola a tutte le persone che saranno presenti, a tutte le persone che accorreranno ad assistere a questo incontro.